oggi siamo a bologna quartiere san vitale via vermiglia appartamento appena ristrutturato posizione incantevole comoda a tutti i servizi siamo a un chilometro dall'ospedale sant'orsola e a due chilometri da piazza maggiore una bellissima zona living uno spazio televisione una splendida cucina un terrazzo meraviglioso con vista aperta sul verde tutti i dettagli in questo appartamento sono curatissimi legno ceramico chiaro a terra molto luminoso serramenti nuovi di ultima generazione con zanzariere ed elettrificati impianto di aria condizionata e pompa di calore ovunque l'appartamento è suddiviso perfettamente dalla zona living passiamo alla zona notte dove ci accolgono una prima master bedroom molto spaziosa con stanza armadi e bagno in suite finestrato con doccia king size sul lato opposto una seconda camera matrimoniale molto ampia e un bagno magnifico con doccia working siamo al quarto e ultimo piano di una deliziosa e piccola palazzina la vista è magnifica l'appartamento viene consegnato ready to live comprensivo di ampia cantina e posto auto il prezzo è speciale 345 mila euro molto interessante anche come investimento